Era bello un andriera veramente allora il livello era un po' ironico e mocheuro questi volti ma si dipende con lui ma era un tipo di rovino è un personaggio è un personaggio allora la prima volta che era curato un niolo attaggiava una fulvetta la prima volta che era curato un niolo se ne parlava barbutto di ferra non era anche amico non tanto con pampagiole con tutti dopo si è diventato amico diceva attacca attacca loro gli azzecini era un attacco attacca un poeta di cosottanaccio di quella età di guascia della sardegna allora dice mi comincio la baruffa un poeta di quel ni comincio la battaglia quale stato vattu nanzi dal martello alla tenaglia o dal lua la gallina luprimu dentro la paglia se voi mi ha risponditi e che poeta siete ah io non conosce questo o martedì la tenaglia a dio conosciuto e visto e quando diego ci tedo due dita ma dio pisto che vado che derisione che diceva o martedì la tenaglia che so dio a ti par cristo quale stato vattu nanzi domandare talardisto eh di tac o tac eh avec derisione quanti aloe la iadina un tiniti pur sicura vada da una risposta faccio una judicatura quidù che stato vattu nanzi e un invocu la natura e senza essa poeta scaltro i due stessi vattu nanzi e l'altro e di tac o tac là e di affermati ma dio tac o tac eh allora a tiap c'è la derisione quale stato vattu nanzi e allo a iadina o l'omartida tenei ma lui il répond avec derisione si e avec leggeretè ma avec lì eh eh voilà un poeta di teo che ho pedito 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 Grazie.